Buongiorno a tutti, allora, filpettina sempre da brrr che freddo che fa anche perché nonostante sia arrivata la primavera fa ancora freschino, non fa freddissimo ma fa freschino, con quel slalom gigante di are, slalom gigante femminile di are, dopo aver fatto lo slalom speciale maschile facciamo anche lo slalom gigante femminile. Vediamo com'è andata la prima manche, è Petra Vlova a comandare il gigante femminile di are, ma è controllata come un marcatore d'altri tempi, da vicino, dalla nostra Marta Martissima Bassino, che ha soli tre centesimini, proprio tre centesimini, nulla, è lì appiccicata. Quindi sarà Ettore a ventinove centesimi, più staccate la Ghisina a cinquantotto, la Vorlet a sessanta, mentre Sua Maestà Michela, perché hanno detto che è scritto Michela con la K, ma si dice Michela come all'italiana, Michela Schifrin è sesta a settantanove centesimi. Ma, ma questa Michela Schifrin è sempre così in ritardino. Quest'anno, agli Olimpiadi è stata per nulla Sua Maestà, adesso sta gestendo il vantaggio che ha in Coppa Generale, però non è più la Michela Schiacciasassi è me da quando è successo quello che è successo. Vabbè, comunque, per quanto riguarda le altre italiane, La Brignone stava facendo una gara da paura, probabilmente, probabilmente, sarebbe potuta essere prima, sarebbe potuta essere prima, ma ahimè, a tre porte dalla fine l'è burlata Giò. Mannaggia, mannaggia, come direbbe il buon Meda, perché veramente stava facendo il garone, probabilmente poteva finire, se non prima, seconda lì e lì attaccata con le altre, ma probabilmente era prima perché aveva un bel vantaggio dopo gli intermedi, o comunque stava facendo un ottimo tempo. Però la potenza è nulla senza controllo. L'unica italiana che parteciperà alla seconda manche è la Caroline Pickler, che però è trentesima. Quindi Marta Martissima dovrà tenere alto l'onore dell'Italia. La classifica, quindi, della prima manche dello slalom gigante femminile di Are, vede la Vlova al primo posto, la Bassino è seconda, la Hector è terza, la Ghisine è quarta, la Vorlè è quinta, la Schiffre è sesta, la Movinch è la settima, la Stiernes è una ottava, la Truppe è truppe, io come la chiamo io, è nona, e la Riccardo è decima. Andiamo a vedere com'è andata la seconda manche, vediamo subito la nostra Carolina Pickler, cosa combina, visto che è la prima a scendere, trentesima dopo la prima manche, obiettivo naturalmente terminare la prova e portarsi a casa qualche punticino. Poi se recupera anche qualche posizioncella, non è che ci fa schifo. In la sua prova, senza infamie e senza lode, così, ma non possiamo saperlo, dobbiamo aspettare la discesa delle altre, termina con il tempo di due trentotto e trentuno. Tocca la Harry, Harry, svizzarina, ventinovesima dopo la prima manche e direi signori mie, gara perfetta. Probabilmente la nostra Caroline si è preoccupata troppo di terminare la gara perché la Svizzera è prima con un, cioè l'ha messa via praticamente, gli ha dato due secondi quasi e mezzo, due secondi e quarantuno, tanta tanta roba. Adesso vedremo con la discesa delle altre se la Harry ha fatto il garone da doppia libidine coi fiocchi, doppia libidine coi fiocchi, o se era la nostra Carolina che si è accontentata, come si suol dire, scendo, arrivo, quello che viene, viene, ma mi porta a casa qualche punticino per abbassare il pettorale un attimino di più. La Harry per ora recupera qualche posizioncina e tocca la Grish, venticinquesima dopo la prima manche. Buona prova della sciatrice austriaca che con un secondo e 0,5 di vantaggio si pone davanti alla sciatrice svizzera. E adesso scopriremo se la Harry ha fatto il garone della vita e la Grish ha fatto una garona da tripla libidine. O se anche lei ha fatto una buona gara, ma non troppo. E signori miei, la Harry ha fatto una buona gara, ma la Grish ha fatto il garone. Perché siamo arrivati alla Holdener, tredicesima dopo la prima manche, vantaggio di 1,15 sulla sciatrice austriaca, che zitta, zitta, cacchia, cacchia, ha già recuperato 12 posizioni, perché adesso tocca la tredicesima. Ahimè, Wendy Campanellino Holdener, dopo il secondo intermedio in luce rossa di 51 centesimi, prende qualche cosa, gli si aprono leggermente gli sci, non riesce più a controllarsi, va secca contro la porta, sbatte con la faccia sulla porta. Sapete, le porte del gigante sono due paletti e la striscetta centrale. Lei è finita proprio nel mezzo, fortunatamente, ma comunque fa malissimo lo stesso. Si porta via i pali, va dritta, secca, termina in mezzo alle reti e rimane lì, in mezzo alle reti. Poi fortunatamente si alza tutto a posto, però diciamo che ci siamo leggermente spaventati, sia io che vedevo la gara, i cronisti, che anche le sciatrici al parterre che hanno fatto... Meno male, tutto è bene quel che finisce bene. Poi controllerò e lo scrivo sotto, cosa se è per caso, ma non credo. Tocca la Sibenhofer, dodicesima dopo la prima masce, vantaggio di 1,21 sulla sua compagna di squadra. Purtroppo, dopo il terzo intermedio in luce rossa di ben 76 centesimi, salta la penultima porta ed è fuori anche lei. Praticamente si è allargata troppo, poi quando ha cercato di rientrare la porta era qua e lei gli è uscita. Deve stare di qua e invece è stata di qua dalla porta, perché si è allargata troppo, si è allargata troppo e poi quando ha cercato di rientrare non ce l'ha fatta, peccato perché mancavano solo due porte, quella lì è l'ultima che era... la passavi tranquillamente perché c'era uno spazio enorme per andarci di fianco. Purtroppo anche la Sibenhofer è fuori e la Gris zitta zitta, cacchia cacchia, si avvicina alle prime dieci posizioni. Era venticinquesima, tanta roba. Tocca alla Aser, la Ricarda, la Ricarda. Vantaggio enorme di 1,76 e decima dopo la prima manche. Gara sempre in luce verde ma col vantaggio che aveva è abbastanza normale, un secondo e 76, ma alla fine prima per soli, e ripeto soli, 35 centesimi. Bisogna dire che la pista però è molto molto rovinata da un po' di tempo, quindi la Gris brava, tutto quello che volete, però ho sfruttato il fatto che la pista era ancora da libidine. Adesso è veramente una cosa un po'... Non dico che le sciatrici sciano sulle uova, però è segnata, segnata, è parecchio. Anche perché ormai che arriva la primavera non fa più freddissimo come prima, quindi la pista si lascia un po' andare e quindi... Comunque, anche la Ricarda, zitta zitta, cacchia cacchia, recupera un po' di posizioni e adesso tocca a Sua Maestà. Michaela Schifrin, sesta dopo la prima manche e vantaggio di 87 centesimi sulla sciatrice austriaca. Scusate il bronco di Riace che deve sempre rompere i testi. Prova normale per Michaela, signori miei. Se era un'altra, dicevo brava, eccetera. Per Michaela è una prova normale che si prende al primo posto ma per soli 23 centesimi. Certo, la pista era pessima, questo e quell'altro, però Michaela sa anche domare le piste indomabili. Diciamo che il suo l'ha fatto, ecco. Libidine. Intanto è davanti. Tocca alla Hector, terza dopo la prima manche, vantaggio di mezzo secondo sulla sciatrice americana che intanto ha recuperato già da sesta, ha già recuperato due posizioncelle. Purtroppo prende in piedi un panetto, praticamente stava scendendo, ha allargato leggermente lo sci, lo sci gli è entrato dentro in uno dei due paletti di sostegno, quindi ha preso con lo sci e sinistro il palettino perché gli si è allargato. Non si è capito perché era lì con i due sci paralleli, questo si è leggermente allargato, è finito dentro uno dei due paletti, gli si è sganciato lo sci ed è andata, ed è volata giù. Quindi anche la Sara Etton è fuori e Michela, zitta zitta, cacchia cacchia, si porta a casa un bel po' di Etto, perché adesso ne mancano solo due, quindi a scifre, Sua Maestà, è a podio. Vedremo se era a podio basso, podio alto, o podio altissimo. Tocca la nostra Marta Martissima Bassino, seconda dopo la prima manche, vantaggio di 76 centesimi Sua Maestà, Michela Schifrin. Vediamo cosa combina la nostra sciatrice. Eh Marta Martissima, non si lascia scappare l'occasione, perde qualcosina, perché anche lei non è che incrementi su... Però con 46 centesimi, quindi perdendo solo 30 centesimi del suo vantaggio, si porta al primo posto, libidine ci voleva per Marta Martissima, un bel po', un bel presidente, un bel podio, e attende adesso la discesa della Petra, della Petruzza. Tocca appunto a Petra Blova, vantaggio di soli 3 centesimi sulla nostra sciatrice. signori, eh, Petra è Petra, la Blova è Blova, una grandissima gara da doppia, libidine, con i fiocchi e contro fiocchi, con un standing ovation, quello che volete, perché la sciatrice slovacca è nettamente prima con la bellezza di un secondo, e 24, di vantaggio, le ha messe praticamente via, tutte, su una pista, pessima, pessima, e lei è riuscita a dare un secondo e 21 alla Marta Bastino, miglior prova di, miglior, miglior tutto, cioè, l'unplane, miglior discesa nella prima match, miglior discesa nella seconda match, una roba, cioè, Petra, in un nome Petra, eh, ragazzi miei, c'è la regina e c'è la principessina che sta per diventare regina e scalzare la regina, eh, perché vlova, scifrin, scifrin, vlova, vlova, scifrin, scifrin, vlova, vlova, scifrin, scifrin, ci sono loro due e alle loro spalle ci sono tante contessine, baronesse, eccetera, eccetera, che sono, che possono dire la loro e molte sono italiane, tra i tre sono italiane. Comunque, classifica finale dello slalom gigante femminile di Are, prima vlova, seconda bassino, terza scifrin, quarta vorlet, quinta Aser, sesta Grish, che recupera la bellezza di 19 posizioni, settima fra Sombé, ottava truppe, nona ghisin e decima gasienica Daniel. Per quanto riguarda la Caroline, ha terminato la sua gara al 26esimo posto, quindi alla fine della fiera quattro posizioni e le ha portate a casa lo stesso, nonostante una seconda masce in controllo senza sprecarsi più di tanto e quindi va bene, va bene, va bene, va bene così, l'aspettiamo poi per la prossima stagione un attimino più performante. ma andiamo a vedere un attimino, signori miei, la comparazione tra prima e seconda masce. Allora, nella prima masce l'Aser era decima e termina al quinto posto, quindi recupera la bellezza di cinque posizioni. La truppe era nona ed è fuori dalle dieci, la Stierneson era ottava ed è fuori dalle dieci, la Movinkel era settima e anche lei è fuori dalle dieci, la Schifrin era sesta e l'Ibidine va sul podio al terzo posto, la Vorlè era quinta e recupera una posizione ed è quarta, la Ghisin era quarta e termina in nona posizione e quindi ne perde cinque, la Hector era terza e ahimè l'è burlata Gio, la Bassi è caduta, era in milanese la Burlada Gio è caduta, la Bassino era seconda resta seconda la Blova era prima e resta prima quindi stavolta a parte la terza le prime due sono rimaste invariate quindi devo dire che stavolta non si è stravolto scusate il gioco di parole la classifica tra prima e seconda in maniera esagerata per intenderci. Detto questo io vi saluto vi ringrazio probabilmente per domani mattina avremo un'altra gara vi farò un'altra gara probabilmente una gara veloce 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 da leccarsi le orecchie in modo che riusciamo a velocizzare poi arrivare alle finali della settimana scorsa perché queste sono ancora le gare di metà marzo poi faremo le finalissime importantissime che daranno le risposte definitive alcune ci sono già sulle coppe piccoline quelle delle singole gare quindi slalom gigante slalom speciale discesa libera super g eccetera 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 e anche sulle coppe generali perché c'è ancora qualcosina da dire detto questo ci vediamo alla prossima ciao ciao